La partita con la Lucchese ci ha lasciato un po' di strascichi, un po' di acciacchi fisici, qualche ragazzo solo esclusivamente nella giornata di venerdì di ieri si è aggregato al gruppo, chi si è allenato con infiltrazioni, chi si è allenato con anestetici, quindi sarà da valutare, sarà da valutare bene, attentamente perché mai come in questo momento l'avere al 100% i ragazzi che scendono in campo credo che sia determinante perché è partita la volata finale, non ti puoi permettere di lavorare al risparmio, lavorare al 90% le tue possibilità perché non sei sicurissimo, perché hai un acciacco, perché hai un malanno. È chiaro che le scelte che farò saranno determinate molto dalla possibilità di avere i giocatori al 100%. È un avversario complicato, sono passati da 5-3-2 e da 4-4-2 da gennaio in poi, una squadra difficile da affrontare, che ha fisicità, che non ti concede profondità, ti aspetta per poi dopo aggredirti nella loro metà campo. Un avversario ostico in casa loro dei 29 punti fatti in generale, mi sembra che ne abbiano fatti 21 e quindi lascia capire il grado di difficoltà di questa partita che è molto più alto rispetto alla differenza di punti che ci sono in classifica. È un avversario anche particolare perché da gennaio ha ritrovato entusiasmo, ha ritrovato verve con i nuovi acquisti, ha una grande arma che è quella delle palle inattive a favore, con gente che le calcia benissimo come Bianco e Aspas, con dei saltatori molto temibili perché sono tempisti e sono strutturati come Bini e Belotti. Quindi dovremmo essere bravi, dovremmo essere bravi a limitare al massimo le loro qualità, ma soprattutto a mettere quella determinazione, quella cattiveria agonistica che in una gara come quella di domani secondo me sono determinanti per poter riuscire a mettere in difficoltà la propria scienza. Io so solo che se fossimo bravi a vincere la partita guadagneremo i punti, che possano essere i punti guadagnati sull'Alessandria o che possano essere sulla Cremonese, questi sono i risultati lunedì. O su tutte e due. O su tutte e due, questi sono i risultati lunedì, ma quello che a me preme è che si guadagnino i punti. Facciamo in modo che siano loro a preoccuparsi il giorno dopo del risultato dell'Arezzo nella gara di domenica, tanto noi la gara la dovremo fare solo esclusivamente per provare a vincerla col massimo rispetto del nostro avversario, però l'obiettivo come sempre è solo esclusivamente quello.